ecco siamo questa è la strada e poi finisce qui perché lo spostamento è stato di oltre 30 metri ecco qui era la strada e adesso abbiamo un terreno portato direttamente a valle ecco come se fosse alla fine della strada invece come si vede il terreno è sceso di oltre diciamo un centinaia di metri forse forse pure di più non ho idea in questo momento però ecco il terreno è sceso queste sono le macerie delle prima c'erano qui delle casette per gli animali adesso non c'è più niente direttamente ma questo è quello che mi sa staccato questo è tagliato drittoso ma questo è un po' 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 dunque la strada è completamente scomparsa ecco qui una volta c'era la strada